Avrebbe potuto godersi tranquillamente una dorata pensione, invece Gian Piero Ventura ha voluto il campo, ha voluto mettersi in discussione perché allenare lo ha sempre stimolato. Lotito, Mezzaroma e Fabiani, che conoscono da tempo Ventura, lo avevano di fatto già convinto la scorsa primavera, quando la Salernitana sembrava ad un passo una tranquilla salvezza. Poi però tutto si era complicato a causa del disastroso finale, così il sì di Ventura arrivò poi solo alcuni giorni dopo lo spareggio di Venezia. L'allenatore genovese voleva dimenticare il fallimento azzurro e quel mese senza sussulti vissuto in A sulla panchina del Chievo. Ventura cioè voleva dare un'immagine diversa di sé perché di colpo quella mancata vittoria con la Svezia e la mancata qualificazione ai mondiali avevano cancellato quanto di buono fatto in carriera dallo stesso trainer. E da Salerno Ventura è ripartito con tanto entusiasmo per riportarlo anche in una piazza desiderosa di vivere forti emozioni dopo le paure vissute in questi ultimi anni. Allenamenti a porte aperte in ritiro, incontro con i tifosi dopo ogni steduta di lavoro, così Ventura ha provato a ricostruire un rapporto che in questi mesi si è basato naturalmente anche e soprattutto sui risultati. La Salernitana ha vissuto un campionato altalenante ma Ventura è stato indicato da tutti come il garante del lavoro della Salernitana. Un allenatore di esperienza, bravo, non poteva certo accontentarsi di un risultato minimo. Nel tempo Ventura qualcosa lo ha costruito perché il valore patrimoniale della Rosa è cresciuto. Molti calciatori sono stati valorizzati dal lavoro di questi mesi. Un anno fa alcuni di loro erano sconosciuti al calcio che conta, adesso hanno mercato. Poi Ventura ha rivitalizzato chi non aveva trovato ancora una sua dimensione. Vedi Lombardi ha fatto di Giurici uno dei più prolifici attaccanti dell'A.B. Dal punto di vista aziendale, insomma, la Salernitana ha fatto benissimo. I risultati però non sono sempre stati continui e dai tifosi interessano proprio i risultati. Ventura qualche orrore lo ha commesso ma la sua bravura ed esperienza gli hanno permesso di correggere quelle imperfezioni che avrebbero potuto compromettere il torneo dei Granata. Eppure Ventura ha sempre creduto nelle potenzialità del gruppo, nelle potenzialità della sua squadra, dei suoi calciatori. Così anche per il tecnico quella con lo spezia non può essere una partita uguale alle altre. È una sfida dal sapore particolare perché raggiungere i playoff indipendentemente dalla posizione significherebbe rispettare i programmi della scorsa estate e restare in corsa per il massimo obiettivo possibile. Così i tifosi si affidano anche a Giampiero Ventura per aggrapparsi alla speranza di una vittoria che renderebbe decisamente migliore il giudizio sul campionato della Salernitana.